Abbiamo appreso con grande interesse che sulla linea Canicattini-Ispica sarà soppresso il passaggio a livello ricadente sul territorio comunale di Vittoria. Finalmente, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione con rete ferroviaria italiana, è stato deciso di dare seguita a una richiesta che la collettività Iparina aveva più volte avanzato senza che la stessa venisse mai presa in considerazione. A dirlo, idea liberale con il presidente Giuseppe Scuderi e con Valentina Tagliarini, che spiega come l'intervento si renda possibile grazie a una riprogrammazione di fondi comunitari. Grazie a ciò la Regione metterà a disposizione 53 milioni di euro, mentre gli altri 14 saranno rimessi in campo da RFI. Occorre dare merito alla CNA comunale, continuano ancora i rappresentanti di idea liberale, per la grande azione di pressing esercitati in proposito nei confronti degli organi competenti, visto e considerato che la presenza del passaggio a livello che di fatto spaccava in due la città di Vittoria, ogni qual volta lo stesso risultava chiuso, era ormai diventata insostenibile. Lo stesso, dicasi, dell'azione svolta in Consiglio Comunale tempo addietro dall'ex consigliere Scuderi, che aveva più volte sottoposto in aula la questione, evidenziando come quando il passaggio a livello era chiuso accadeva che le autoambulanze rimanevano dietro le sbarre, con il paziente a bordo, in alcuni casi pure in gravi condizioni. Naturalmente continuano Scuderi e Tagliarini, auspichiamo che l'iter per l'eliminazione possa essere attuato in tempi brevi e ci auguriamo che finalmente per la nostra città arrivino le risposte attese su un fronte che non poteva più essere trascurato. È fondamentale che la linea ferrata possa funzionare senza interferire con la viabilità urbana cittadina, così come spesso è accaduto. È utile dunque che si possa proseguire lungo questa strada già tracciata per ottenere quei riscontri che i vittoriesi non possono fare a meno di attendersi.